L'undici di Cozza è chiamato ad una prova di carattere, anche in considerazione della pesante assenza per squalifica di Giuseppe Rizzo. Il centrocampista messinese, insieme al bomber Roberto Insigne, è stato il vero trascinatore della squadra Maranto in queste prime nove giornate. Un punto di riferimento per gli equilibri tattici della squadra dello stretto, tanto in fase di ripiegamento che in quella di costruzione della manovra offensiva. Un problema in più per Cozza, che in quella posizione potrebbe lanciare il giovane Maita. Grazie a tutti.